Io ringrazio la professoressa Tadaro che mi ha perceputo perché mi hanno dato alcuni suggerimenti per quanto vado a dire. Il problema della collana che ho presentato velocemente è che, insieme dal resto di altri documenti, è che molti di questi documenti non sono necessari, sono rari e non sono delle novità. Però sono rari e non significa essere rari, significa che i testi stampati si trovano in pochissime biblioteche, si trovano magari, come è il caso del testo di Manospina, in una sola biblioteca in tutta Italia, biblioteche pubbliche, oppure sono stati pubblicati a Suddeco, magari proprio da quei docenti che qui hanno risultato di venire, come il testo di Thibault, che è la fonte francese che ferma il massacro di 60.000... Per quanto è stato effettivamente già pubblicato in un'edizione fantasma dell'Istituto di Studi Filosofici, e che, grazie allo sforzo della nuova traduzione fatta dal remonto Rotondi, sarà, si spera, presso, pubblicato in questa collana. Ora, i documenti di Porta Arroyo sono documenti che si trovano... Allora, io ho iniziato il suo lavoro 24 anni fa, in precedenza del Vicentrano, del 99, e questo mio pallino di pubblicare, dopo le entomiastiche della fossera Pimentel, si è realizzato soltanto dopo molti anni, e devo dire la verità che, se voi andate a scavare su internet, magari questi testi li trovate, però non li trovate a commentare, sono una cosa di... si sono stati pubblicati, sono cose vecchie di sapute, no, sono cose vecchie, magari siamo d'accordo. Che siano cose di sapute, ce ne voglio dire. Perché vi dirò delle cose, che chiunque potrebbe trovare, da certi testi che si trovano, dal monitore alle opere letterali della Fonseca Pimentel, però, mi direte poi, se questi commenti sono noti, o se invece... non vedo che sia una novità, ma è soprattutto una primizia, quella che sono per dire. Allora, ho detto che Ers Funturato, che è un personaggio che sta sopra delle peghe neoproponiche neogiacobine, che Ers Funturato ha definito, in tono ovviamente ironico, un personaggio notato di una santità laica. Perché Fonseca, quando, dopo un suo intervento sul Corriere del Mezzogiorno, alcuni dei nomi che sono stati citati prima, che non sono più presenti oggi, insorsero, dicendo che era vergognoso che tu avessi usato presentare la divina di Onora, arregolandola allora a Bush, quando lo scatto era ben altro, e poi che avevo studiato io, che avrei presentato in un articolo, appunto, di Onora come Bush e alza i cavi, come il cardenale Bush. Ora, su cosa si basa questo momento di Onora? Si basa essenzialmente su tre cose, estremamente idealista, grande giornalista e proprio femminista. Andiamo per ora per dire questo. Per questioni di tempo, saranno alcune considerazioni sulla vita come fin dal primo momento della ricostruzione della vita fatta dai suoi esaltatori, anzi dai suoi maggiori, fin dove dire, e la viene presentata come una martire fin da bambina, perché si dice che dovette fuggire da Roma per fuggire a persecuzioni che i papalini avevano scatenato contro i portoghesi in seguito all'espulsione dei gesuiti dal Portogallo. Orbene, dati alle mani, ammesso che ci sia stata la persecuzione dei portoghesi da parte dei papalini, comunque l'espulsione dei gesuiti a Portogallo nel 1659 e Eleonora, che era figlia di uno spagnolo e di madre portoghese, si traslisciavano alle 56 anni prima. Quindi anche questa è una rimpersione degli andrografi. Ma andiamo avanti. Diciamo che appunto lei è conosciuta dalla sua storia anche attraverso i documenti che noi abbiamo del suo processo di separazione. lei si sposò, si separò e ebbe dal suo momento processuale una risulta che era molto stimata. Lei era sicuramente intelligente e colta, ogni volta facevano molte traduzioni soprattutto dal portoghese e in seguito a questo processo ebbe non solo consentita la separazione ma era anche un buon contributo mensuale che chiese alla corona e che la corona le concesse. Per di più la regina la fece anche sua bibliotecaria, quindi grazie a questa sinecura di essere bibliotecaria della regina si trovò abbastanza bene. Leggo una citazione. Forse gli anni tra il 1785 e il 1799 sono stati per lì la nora i più veli, erano una parte tra i miei genitori e i fratelli di che Giuseppe siano sposati. Fu allora che, pur essendo rimasta sola dopo la separazione conquistata la libertà e un amico dell'indulendenza economica non lo disporre in una chiesa per un obbiettivo per ricevere i nemici, realizzare il suo salotto di patrioti se lo vogliamo sottennere e da questo lasciare maturare poi la sua mente un ideale di libertà estesa a tutto nuovo ad oppresso. Citazione di Antonella Orefice sul nuovo monitore napoletano. Quindi la Orefice, che forse pensa che è stata l'incarnazione di Eleonora, ci dice che è stata benissimo, viveva bene grazie all'aiutore Giuseppe anche se non sono lì abbastanza. Noi vogliamo che lei continua a fare questa opera di collegamento con i patrioti, questo salotto patriotico anche negli anni successivi al 1993, cioè quando la rivoluzione getta la propria maschera e quindi tramite il terrore dimostra che cosa è in realtà che cosa sono i Giacobini che verranno, come sapete poi, eliminati dai Gironbini e poi dal Consolato Cilice e dalla Polonia. Quindi lei nel 1999 continua ad essere invece legata alla vecchia idea fanata dei Giacobini e secondo me non può essere considerata nella sua e quella dei suoi compagni di lotta una lotta, diciamo, idealistica, perché sapevamo in realtà a quale massaggio abbiamo portato l'estabilizzazione del Giacobini. Ma, dicevamo, sull'idealismo fisicamente intento lo vediamo. Vorrei invece vedere l'altro elemento. Lei è stata considerata una grande giornalista. Recentemente, in un convegno incontro tenuto da un decano dei giornalisti napoletani, questo disse che abbiamo una grande tradizione e la nostra tradizione è stata eventuale, che è un'unica risulta di fischiare molto mai duradamente in quella occasione ma l'altro si svolgeva l'adorazione di Margherita, fosse fischiare, non potevano essere giustificate. Lei, in questa, ovviamente, diventa direttrice di fatto del giornale monitore napoletana ed è molto importante perché si tratta dell'ordine ufficiale della pubblica sorella, quindi, voglio dire, non è una cosa da poco, però che direttore responsabile è responsabile penalmente anche di quello che scrive e di quello che viene scritto anche dall'altro. Quindi, anche se non è sicuro al 100% che quello che è stato scritto sul monitore sia opera sua, di fatto era passato sulla sua supervisione. Allora, qui intanto abbiamo la dicotomia tra l'onora che pretende il numero 10 del monitore, una bezzetta in libro vernacola con la quale istruite il minuto popolo dal lato, e dall'altro ella che era stata parte, che era stata membro dell'Accademia dell'Arcadia, viene, si esprime, come sappiamo, invadiata da scandalizzare un suo romano che è di oggi, cioè Lincenzo Cuoco che poi dirà chiaramente che non si poteva utilizzare un linguaggio in cui si parlava di vostro Claudio Fuggito, Messalina Trema, cito da poco, che era obbligato il popolo a sapere la storia romana per conoscere la sua felicità. Questo linguaggio lo starebbe in bocca di un conquistatore, di un oratore, che parla di un lancio di un filosofi, di un filosofo che parla di altri filosofi, anche lo storico che trasmetta la vostra vita ai risultati, ma non deve essere mai che parla di un uomo che parla il popolo e voglia muoverlo. Quindi, per lo meno, se lei realmente pensava, pensava allo scritto, che bisognava parlare di tuo indialetto del popolo, e poi, con la lingua che parla di altri filosofi, alla lingua che parla di altri filosofi, poi scrive appunto un profondo direttore, che poi riporto nella mia traduzione tutte queste varie situazioni che le imprese. Ma poi c'è un altro tipo di contraddizione, non soltanto nell'idea di una gazzetta delle quali adulti è un linguaggio che parla soltanto dei politi, a di vita. Ci sono delle contraddizioni negli stessi articoli. Ad esempio, a un certo punto si parla il 5 febbraio, scusate, il 7 di 17 di oroso, così capita meno. Si parla delle grandi innovazioni che vengono portate dalla regola dei francesi, si criminalizza il re che è andato, per carità, non vogliamo troppo difendolo perché non poteva resistere, invece decide di andare in Sicilia e si porta dietro il tesoro della colonna, e però dice adesso conoscerete gli inapprezzabili vantaggi del nuovo regime. E afferma, ricordiamo che i massacri dei tre giorni, stiamo ricordando quale è la giornata napoletana, con una perdita da parte dei laseri, che va, secondo le fonti, dai 5.000 ai 15.000 come massa, con un numero enorme. E lei scrive, ok, settimane per gli apprendimenti. La Repubblica Napoletana, creata sotto gli auspici della grande Repubblica Francese, ha avuto la felicità di essere formata lungi dai tuoi compagni e dalle tempeste, e nel seno della pace interna, senza quasi alcuna infusione di sangue, nel mare aspetto quasi, sotto la protezione di una amata vittoriosa e imperatrice. E poi scrive che è stata decisa da legge per l'impresto forzoso che prevede la spazia. Il pagamento di 4 giorni e mezzo e 8 giorni, questi sono grandi vantaggi inapprezzabili, come dice lei, e la maglia vittoriosa liberatrice è quella che immediatamente chiede il pagamento anche in norme d'arte, eccetera, eccetera. Poi vabbè, si va avanti con i epitoli di Aletto Messalina, il coro lo conosce benissimo Aletto Messalina, e capiva immediatamente a chi si riferiva quando parlava dei cortigiani come piccoli falari. E' una cosa che proprio un minuto comprende perfettamente. Forse comprende meglio quando, tipo un minuto, si vede le politiche spogliate di tutti gli arredi perché bisogna pagare per concessione e peccana, anche in beni. Quindi, non è un caso che, all'inizio del recento, una persona molto semplice, in tale momento, in quale Perugia, riesca a rubare la Gioconda a Louvre e la Porta d'Italia, sicuro che la Gioconda sia stata rubata da altre ore, perché i francesi sono fatti in questo periodo una fama di ladri, francesi rivoluzionari, francesi liberatori, che sono fatti da una fama di ladri, per cui anche la Gioconda, che fu ovviamente donata direttamente, dipinta in Francia e donata in Francia dall'autore al suo dettore di Francia, veniva considerata invece come qualcosa di italiano che è stata rubata da Napoli per quanto è avvenuto. Tanto è il mito che ha mangiato sul cuore. Ma ne ho altri. Ho detto allora, contraddizioni termine, falsità, clamorose, volete scrivere la storia peggio di Orwell, ma la cosa peggiore che ha fatto la giornalista, è un'altra che non so se è stata mai sottolineata. Leggete questo, leggiamo questo testo del numero 19, siamo a maggio del 99, che quasi con un tonica cronista mondana scrive una nostra e greca cittadina, cittadina menuscolante, Luisa Molina, San Felice, più nota con lo secondo nome, svelò per ieri sera al governo la cospirazione di pochi non più scelerati che mendecati. Cioè non sono tanto cattivi per quali ci dovevano massacrare tutto il governo, ma più mendecati, i pazzi proprio, cioè i pazzi come nell'Unione Sovietica sono quei che non la pensano come chi comanda. capo del foro e di un progetto è montato a Pachea e poi si rilogano i suddi al detto Pachea. Ora, non so se avete compreso chi è questa signorina Luisa, signora Luisa Molina, è la San Felice, Luisa Molina San Felice, la quale, come sapete, a proietta del patrimonio e avendo due amanti, uno Giacobino e uno Reazionario, come diceva un amico dell'Utere Costantiniano, una volta confusi di letto, raccontò allo Giacobino quello che aveva sentito la notte prima in conversazione amichevoli con il Reazionario, poi diceva, attenzione, perché stai attenta, perché dovevano fare un amico del Reazionario. Il risultato fu che i Baccheri furono arrestati, furono uccisi il giorno 12 giugno, il giorno prima dell'ingresso dell'armata della Santa Fede a Napoli, quando la logica avrebbe voluto che si procrastinasse l'esecuzione per, magari, contrattare lo scato dei busonieri, e quindi il terzo fratello, miracolosamente, nel senso vero, si salvò il deato Placido Baccher, e quindi il padre, questo Mentecato, come definisce la Fonseca Pimentela, si, l'articolo è scritto da Fonseca, e se questi Mentecati indicavano certo Baccheri, il padre del Baccheri pretese che lo ottenne da Ferdinato IV che non venisse fatta la grazia a San Felice, da quale San Felice era stata sbattuta in prima pagina della Fonseca. E qui, cito Di Giovine, che non sopesso che sarà presso pubblicato, ricorda questo fatto, che dice da sventura la donna benetracinata dell'onora in una pubblicità non richiesta e ne gradita tutti questi risultati. La storia o nella storiografia non ha mai avuto il coraggio di sostenere in tal modo la responsabilità morale di un'altra cosiddetta martire del 99 ed attraguire la fanatica giornalista. Cioè il Martino, tanto piano, su cui ha detto due maschi su un romanzo, è dovuto a nient'altro che all'onora secondo te, perché è vero che se lei si è cercato perché è andata a tradire e denunciare la donna, però sarebbe rimasta nelle carte processuali niente e più se invece è diventata pubblico dominio che è grazie al numero diciamo quindi come giornalista se mi permette te la consiglierei oppure non la consiglierei decana dei giornalisti vantaggio di tanto di queste bocchie che scriveva male le diceva in sua sita e ha condannato a morte una sua conoscente, amica o martire diciamo così. femminista sarò un po' più breve no femminista se il femminismo è esaltare la donna in quanto tale solo perché tale femminismo come tutti gli ismi o delle generazioni non è la femminità che è naturale ma è questa forzatura il femminismo e l'onora fu umana e l'onora fu una persona di intelligenza poi applicata male negli ultimi anni negli ultimi mesi abbiamo visto però una persona di intelligenza che si fece conoscere si fece benvolgere durante il processo tutti fanno una testanza a favore suo e non a favore del marito però una che parebbe risprezzata le quote rosa sotto un'umiliazione oltre al femminismo nei confronti delle donne perché come dire da madre di Canossa alla professoressa Sbalano le grandi donne che si fanno sentire per l'ultima perché sono grandi persone non perché sono donne non è che qui il il l'amico Santanelli ha detto che ci sono tre uomini che non possiamo fare troppo che non ci vuole una donna qualsiasi persona la chiamavano perché riteneva che fosse capace di dire come persona di e non in poesia parlando di Carolina quando non era messagina quando non era letto diceva all'impaccio femminile sdegnosa, Carolina eccetera eccetera, espira maschio, valora, e poi mista in quel volto la verifiazza, questo quando io non la scrive, in occasione del matrimonio, trafeggiamo la Carolina. Poi aggiunge il maschio da questo punto di vista, quando nasce la seconda figlia, la prima figlia, la seconda figlia, la femmina, e scrive in un soletto a Maria Carolina, in cui voi dice, si felice perché è nata la seconda bambina, no, le dice, non ti preoccupare, so che sei triste perché è nata la seconda bambina, non ti preoccupare, arriverà un maschio, le tue due figlie sono come da allora, che annunciano il sognacente, ma chi era Maria Carolina? Chi era Maria Carolina? Era la figlia, era la figlia di Maria Teresa, era la figlia dell'imperandrice del Sacro Romano Impero, era la figlia della donna più potente del mondo, che è una donna, e per cui non c'era bisogno di dire, non c'era il bisogno di dire, non c'era il bisogno di dire, non c'era il bisogno di dire, poteva paragonarla alla madre, sarà la nuova Teresa, imperatrice, appunto in un mondo antico non ha mai avuto bisogno di una cosa, Maria Teresa, imperatrice del Sacro Romano Impero, nel per cui un'altra donna è la tarina di tutte le fosse. Andiamo avanti, finalmente arriverà poi questo sole, che sarà maratonato al luogo Orfeo, e qui passiamo dal, cambia un attimo l'algomento, vi chiedo scusa se mi sto dilungando, vi chiedo scusa, potrei chiudere qui con due parole, oppure dire alcune cose che mi sembrano abbastanza importanti, perché non ci sono, se mi permette, che poi traceremo da un'altra donna di parte, io ho soltanto questo, che quando nasce il figlio, nel famosa stazione, lo chiama Dio, del resto ha già minimizzato in un altro poema, Francesco e Carolina, novelle d'età, e dice due cose, però molto grosse, che non posso non lo dire. Uno, dice che il grande figlio, tra l'altro, scusate, non è un po' fuggietto, dice perché questo grande figlio, il povero Carlo, non è un po' fuggietto, non sapevo niente perché morì a quattro anni, quindi insomma, essere citati da un lato la San Felice, tra l'altro i figli, dice questo, la canna d'esbiettrice, che l'età di Ferdinando ogni altra avmazzerà, facendosi pure l'argo con la forza, imponendo le proprie idee che, secondo Dall'Eonora, per essere sue idee, cioè le idee illuministiche, e le leggende apprenderanno per lui, vibrati a pollo, da concavi metalli, ardenti globe, e infine di ministri di reali, segni a fulminare per nuove strade regni. traduciamo dall'arcanico i concavi metalli sui cannoni, vuoti all'interno, gli armi di loro sono come i cittadini, cioè le dice, Ferdinando disegnerà, segua come si occorra, cannonato, del resto è quella che fu finse al cannoneggiamento da queste sante volte dei fedi patrioti che combattivano per la propria patria, delle 16-158 che combattivano per lo straniero. Però Ferdinando non sono i più studenti che i don Giovanni d'Austria, eccetera, eccetera, ma la regge Caserta è un nuovo limpo, e dopo i 16-16 di Napoli che ti regolano i tuoi dei, e poi Ferdinando, alla fine, viene definito in questa maniera, che, voglio dire, nemmeno il più fanatico, neoborbonico, ha mai osato dire, cioè noi borbonici, i neoborbonici, i tradizionalisti, hanno la simpatia per Ferdinando, il re popolare, il re nasone, il simpaticone, ma nessuno avrebbe mai osato dire che bisogna imitarlo, scacciando gli ossi di lettosi a dei penti di Napoli, i faticosi spiriti, dei giari studi del tuo principe prende, ora nessuno ha mai considerato Ferdinando, un personaggio simpaticissimo, amato, amato da poco, non ha mai regalato e scevoso, quindi qua c'è più che cortigianeria, a mio parere, un po' di legittimismo più basso. Concludo, concludo con parole non mie, e dico questo, un autore dello scorso secolo, Bicchia d'Arcella, pubblicò, e a me lì fu criticata tutte cose note, si note per uno strunineare, la poesia, l'esaltazione di Ferdinando e Carolina come Duma e Minfa Egelia, e poi disse, però, quando non cambiano i venti, anche il lavoro, come l'altro boccatone in miniatura o decisebio del famoso monitore della categoria di Contumini, Maria Carolina, e che ogni sorta ha l'ottraggi, che non si conoscono principi, che non si sia arrivato mai all'autoparto se non alcuni del fasso sociale, se ne vogliono tenere un giudizio sfavorevole, vanno alcune, ciò non esce da confine dalla normale logica, ma conoscerlo, ad un largo, sollecitare per favore e benefici, e poi che a Mara la rovina è uno splendido esempio che solo i marchesi dei formatori del mondo ci porgono. Siccome abbiamo visto parecchi esempi compropriosi, anche nella catastrofe del 1860, massimi tra conduttori dell'esercito. Vi ringrazio per l'attenzione.